Le decisioni, il modus operandi col quale state andando avanti, fotografano proprio questo. C'è un Governo che, in virtù di uno Stato emergenziale, sta bypassando qualsiasi passaggio democratico, qualsiasi collaborazione e unità nazionale che, nel rispetto delle reciproche posizioni, senza commissioni di alcun tipo, abbia veramente un ascolto nei confronti delle posizioni. Noi dovremmo continuare a tacere e a stare zitti in virtù di un'emergenza, ma rendendoci contemporaneamente conniventi ad errori che vengono compiuti in tutti i settori o a mancanze gravi rispetto a quello che il Governo non fa. Non è possibile. È una questione di rispetto sostanziale dei principi democratici e delle volontà popolari. E noi non vogliamo, non possiamo e non dobbiamo essere conniventi con i ritardi, gli errori, i danni, provocati da questo Governo. In sostanza, noi continuiamo, come vedete la nostra presenza ci caratterizza anche in Aula, siamo disponibili a lavorare sette giorni su sette, l'abbiamo detto più volte, continuiamo ad essere a disposizione con le nostre idee e le nostre proposte. Ma dovete rendervi conto, signori del Governo, che il tempo è scaduto e così anche la nostra pazienza. Grazie. Ha chiesto interinire il deputato Paolo Russo, una facoltà. Grazie, Presidente. Li avevate chiamati eroi. Alcuni li avete definiti angeli. Ed ora cominciate con l'oblio per poi offrirli, talvolta alle aggressioni, talvolta all'udibrio. Parlo dei medici, parlo del personale sanitario, parlo di quei volti che abbiamo imparato a leggere nelle loro stanchezze e nel loro essere davvero al fronte. Abbiamo suggerito in questo provvedimento una misura che consentisse uno scudo penale, sì, uno scudo penale per quei medici al fronte, come nella medicina militare. Uno scudo penale ed anche uno scudo risarcitorio per quel personale sanitario che è stato costretto in pochi minuti, in pochi secondi, a dover decidere di volta in volta attraverso un proprio atto sanitario della vita di tanti nostri concittadini. Questo scudo però doveva rappresentare anche un elemento per consentire quel diritto alla giustizia e alla verità, per i familiari dei deceduti, per i familiari e per gli invalidi, per quanti i cittadini ritenessero di necessitare di verità e di giustizia ed eventualmente anche di un giusto risarcimento. Tutto questo non è stato possibile. Non è stato possibile per la vostra protervia, per la vostra supponenza, per la vostra indifferenza rispetto ad un tema che è centrale dal punto di vista tecnico ma è centrale anche dal punto di vista etico. Vi abbiamo suggerito di defiscalizzare gli stipendi del comparto sanità. Credo che sia doveroso, giusto, dare a questo mondo che abbiamo capito è tanto indispensabile e necessario per il nostro Paese anche una soddisfazione, una piccola soddisfazione di carattere remunerativo. Abbiamo suggerito a questo personale di consentire che se caduti venissero equiparati alle vittime del dovere. È un emendamento questo che ha una valenza dal punto di vista delle provvidenze, delle misure, ma anche una valenza etica. Se volete far capire lo Stato da che parte sta, se sta dalla parte di questi eroi oppure se sta dalla parte delle aggressioni, di quelle aggressioni a cui eravamo abituati fino a qualche mese fa. Vi abbiamo suggerito di aumentare, moltiplicare le specializzazioni, le specialità per la Facoltà di Medicina, soprattutto per quelle più critiche, penso all'anestiosologia, penso alla medicina e alla chirurgia d'urgenza, penso alla biochimica clinica, alla virologia, nulla di tutto questo. Vi abbiamo chiesto di alimentare e sostenere la ricerca, quella pubblica e quella privata. Nessun cenno in questo provvedimento. Abbiamo provato ad introdurre qualche elemento di dibattito su questo provvedimento per consentire che ci fosse una rete di assistenza territoriale più valida, soprattutto più strutturata, capace così di affrontare la fase 2 e le fasi che andremo ad incontrare. Nessun segnale, zero ascolto. Vi abbiamo chiesto di utilizzare tutte le competenze del nostro Paese, quelle pubbliche e quelle private, anche sul fronte dei laboratori. Se si vuole davvero fare un'operazione nel nostro Paese di screening funzionale, efficace, non solo ai fini epidemiologici, ma anche ai fini della ricerca di asintomatici contagiati, è evidente che bisogna mobilitare tutte le energie della sanità, quelle pubbliche e quelle private, senza avere condizionamenti ideologici, senza avere preclusioni. Nulla di tutto questo. Ma vi abbiamo anche chiesto una cosa in più. Vi abbiamo detto, scusate, obbligate a tutti di mettere le mascherine, a parte la pantomima che in un primo tempo avete detto che non andavano messe, poi vanno messe, ma questa è altra storia. Dite a tutti che bisogna mettere le mascherine e non riducete l'IVA dal 22 al 4%, le mascherine come i prodotti griffati, le mascherine come lo champagne, le mascherine come il vino dannata. Sottraete in questo modo ogni anno 7 miliardi alle famiglie e alle imprese. Da una parte costringete, collassando le imprese e le famiglie, al prestito. Poi garantite quel prestito, magari per pagare tasse. Quel prestito è oneroso. Ed infine costringete quelle famiglie e quelle imprese, le obbligate ad un'ulteriore gabella. Cosa fanno le organizzazioni criminali? Inginocchiano le imprese attraverso le economie illegali e la concorrenza sleale, poi garantiscono prestiti e salvataggi, obbligando quelle stesse imprese a tassi usurai e all'acquisto di prodotti con un prezzo fuori mercato. Trovate qualche similitudine? Trovate qualche differenza? A me sembra più o meno la stessa cosa. Una nuova tassa. Una tassa sul pane, sul macinato. Questa è l'IVA al 22% quando rendete obbligatorie le mascherine e poi non riducete l'IVA dal 22% al 4%. Ve l'abbiamo chiesto in tutti i modi, in tutte le possibili forme. Tra l'altro si tratta di un'entrata tutta nuova, quindi non va nemmeno giustificata in qualche modo questa riduzione. Parliamo di decine di migliaia di mascherine al giorno. E poi, caregiver, avete lasciato i soli, ci aiuta il prossimo. Credo che sia un atto di imprudenza e di vigliaccheria. Sono tutti sospesi i servizi scolastici, i socioassistenziali, i socioeducativi, i centri diurni. I 600 euro coperti che noi volevamo offrire a questa categoria sono già coperti dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare. Abbiamo trovato sordità, abbiamo trovato insipienza, abbiamo trovato supponenza. E poi vi abbiamo suggerito di intervenire sulle malattie rare. Debolezze nelle debolezze. Penso alla fibrosicistica, alle immunodepressioni. Nulla di tutto questo non vi è stata una iniziativa in queste direzioni. Eppur vi avevamo trovato anche le forme di copertura. Ma non era più facile. Una sola misura. Una sola misura per tutti. Indennità di quarantena, immediata, diretta, universale, senza far pasticci. Senza ricorrere a mille pastoie burocratiche. Avete infilato gli italiani nella giostra della burocrazia. Cinque modelli per poter uscire di casa. Mutavano più i modelli del coronavirus. Diciannove adempimenti per avere il prestito oneroso di venticinque mila euro. Vi abbiamo in questa logica chiesto sospendete il codice degli appalti per far sì che finalmente ripartano le attività d'impresa. Nulla di tutto questo è stato ascoltato. Vuoto assoluto sul fronte della scuola. Ci si affida a lezioni digitali e si escludono due milioni di ragazzi o non serviti dalla banda larga o, peggio, privi di pc e di tablet. La discriminazione che genera esclusione culturale e sociale. Altro che dispersione scolastica degli anni scorsi. Siamo alla selezione prima della valutazione. Nulla ho letto per nuove scuole e nuovi asili né al nord né al sud e dal sud ne avremmo ancora di più bisogno in ragione di quel diritto che non viene celebrato che è il diritto ad un'istruzione garantita ad ogni nato nel nostro Paese. Nulla per le scuole paritarie pubbliche costrette al collasso dalla vostra logica ideologica e punitiva. Vi abbiamo chiesto di sospendere gli affitti senza gravare sui locatari misure per famiglie, per imprese e per locatari. Dovevate essere il governo smart del digitale. Mi sarei aspettato fuochi d'artificio da questo punto di vista e vi siete incagliati prima tra l'imbarazzante ed irresponsabile click day all'Inps e poi con milioni di ragazzi che non riescono a connettersi per seguire le lezioni digitali. Ma è venuto in mente a qualcuno di questi scienziati che avete come consulenti, già che vi siete definiti incapaci di decidere e necessitati di scienziati al fianco, è venuto in mente a qualcuno che andrebbe assunto una misura per estendere i contratti di telefonia mobile, perché i giga non sono sufficienti e in qualche misura in famiglie che non se lo possono permettere, come voi e come noi, magari sarebbe necessario anche un aiuto in questo senso. Vi abbiamo chiesto di sospendere la plastic tax e la sugar tax. Sono due tasse inutili, dannose, mettono soltanto le mani nelle tasche di cittadini e soprattutto penalizzano le imprese. Dell'abolizione parleremo. Vi avevamo chiesto rinvio o sospensione. Non la proroga per le concessioni balneari, non un bonus sul turismo italiano, in modo tale da far conoscere e apprezzare ancora meglio il nostro Paese. Avete pensato di sopprimere il processo penale attraverso un'azione da remoto, l'ennesimo pasticcio normativo che è calato dall'alto, una norma che colpirà al cuore il processo penale riducendo ad una situation comedy. Quindi, nessuna garanzia per il cittadino imputato, esercizio virtuale del diritto di difesa, assoluta incertezza per la tutela dei dati sensibili. Vi abbiamo chiesto di rinviare l'entrata in vicore della riforma liberticida sulle intercettazioni. Ma è possibile che non c'è una delle proposte fatte dalle opposizioni che voi avete saputo o voluto accogliere? Sapete far tanto bene? Sapete far tutto? Avete abbandonato lo sport, gli sportivi, le associazioni sportive, le società, le società di gestione degli impianti? Tutti abbandonati. Vi abbiamo detto che perlomeno compensate per le imprese i debiti delle pubbliche amministrazioni. Evitate di far fallire aziende sane per troppo credito nei confronti delle amministrazioni. Della Cassa Integrazione non parlerò. Siamo a zero babà, zero babà. Un ritardo inaccettabile, le regioni tutte in ordine sparso e voi ad assistere. Consentitemi due parole sull'agricoltura. Servono braccia, servono lavoratori, serve forza lavoro. E voi che vi siete inventati? Regolarizziamo i clandestini. Non è nemmeno funzionale all'agricoltura. Non serve all'agricoltura. All'agricoltura oggi servono vouchers. Vouchers semplificati. Per consentire a quelle fragole che tanto apprezzate e che proprio in queste ore, in questi giorni, in queste settimane devono essere raccolte, a quelle fragole di essere raccolte per arrivare sulla vostra tavola. Ma che pensate che ci può farlo? Ma penso anche al vitivinicolo, collassato per le vicende del mercato internazionale. Penso alla pesca, penso al florovivaismo, penso alla mozzarella di bufala campana d'op. Non c'è una misura, una. Non ne leggo una. Ma gli agricoltori sono, si sa, quelli che lavorano di più, si alzano ogni mattina. La terra non si alza. Sono loro che devono abbassarsi verso la terra. Ma sono considerati lavoratori di serie B. Per le aziende agricole il limite per le certificazioni antimafia è 5.000 euro il limite per le risorse statali e 25.000 euro per le europee. Per tutte le altre imprese il limite è 150.000 euro. Scusate, ma c'è una condizione ontologica per cui ritenete gli agricoltori più inclini ad essere oggetto delle organizzazioni criminali? O c'è una preclusione di tipo sociologico nei confronti di ci lavora avendo voi la presunzione di ritenere di dover aiutare sempre e solo ci non lavora? Vi abbiamo suggerito anche su questo fronte un pagamento compensativo per le imprese agricole su tutto il territorio nazionale sul modello delle indennità compensative delle aree svantaggiate. Si potrebbero utilizzare le annalità 2021 parte della 2022 integrando così i fondi non spesi del programma 2014-2020. Nulla. Ma non avete fatto nulla per le forze armate nulla per le polizie nulla per le polizie locali che stanno fronteggiando da soli questa emergenza nelle piccole comunità. e veniamo ad un altro tema. Io ho creduto negli anni scorsi che la battaglia sull'RC Auto era una sorta di battaglia tra Sud e Nord per cui trovavo sempre la vostra indisponibilità a ragionare sul premio dei poveri automobilisti virtuosi del Sud che pagano molto più di quanto non paghino gli automobilisti virtuosi del Nord e pensavo che fosse una contrapposizione di questa natura nulla di tutto questo mi devo ravvedere è la contrapposizione tra chi cammina a braccetto con le compagnie di assicurazione e chi invece cammina a braccetto degli automobilisti e dei cittadini. Vi abbiamo suggerito una norma che non costa non costa un euro ma scusate se nel contratto assicurativo è previsto un rischio per 12 mesi e per n chilometri e se quei 12 mesi non sono tali ma sono diventati 10 e quegli n chilometri si sono ridotti del 20% ma per quale ragione non deve essere ridotto quel rischio e quindi allungata la polizza? Per quale ragione? Datemi un motivo perché serve un regalo alle compagnie di assicurazione? Fatelo! Ma il regalo dovete fare con le tasche vostre non con le tasche degli italiani voi sottraete un miliardo e duecento milioni alle tasche degli automobilisti per darle alle compagnie di assicurazione e ho talmente ragione abbiamo talmente ragione che una primaria compagnia di assicurazione sta facendo già questa promozione a dimostrazione del fatto che un incauto arricchimento non lo so se è incauto ma di certo si determina una condizione per la quale la sinistrosità in questi due mesi si è ridotta del 96% perché volete fare questo regalo? Che stupido a fare questa domanda sono preoccupato siamo preoccupati per il vostro atteggiamento avete dimostrato di essere incapaci inavveduti incerti saccenti superficiali autoreferenziali autoreferenziali e lo avete dimostrato col numero di col numero di comitati che avete messo su c'è già il governo ci dovrebbe essere il governo 21 ministri 42 sottosegretari staff segreterie gabinetti direzioni generali 21 governi regionali 400 assessori staff consiglieri delegati tutti a pensare alla fase 2 1500 tra direttori generali delle ASL direttori amministrativi direttori sanitari consulenti interni esterni 1500 tra le direzioni centrali delle regioni con staff consulenti professori fattucieri maghi c'è di tutto avete costruito un ambaradan straordinario per costruire questa fase 2 per disegnare la fase 2 40 sono i componenti della cabina di regia del governo enti locali e parti sociali 8 quelli per la task force ministero della salute 100 esperti per il ministero dell'istruzione 20 per la task force presieduta da colao 8 per la cabina di regia con gli enti locali 76 per la task force del ministero dell'innovazione 35 per la task force liquidità del sistema bancario 9 per la task force finanza sostenibile 11 contro le fake news 13 per il ministero della famiglia 40 struttura di supporto al commissario arcuri 15 per l'emergenza al miur 15 task force carceri 40 task force giustizia ma dove volete andare ma dove volete andare state favorendo l'occupazione di consulenti il più delle volte inutile quando utili utili contro di voi e contro gli italiani eppure noi credevamo ancora che di fronte al covid bisognava costruire un clima istituzionale politico coeso non ideologico privo delle scorie del passato vi abbiamo ascoltati ma eravate sordi alle nostre sollecitazioni spesso muti incapaci di riconoscere le vostre debolezze e la vostra ignoranza fino all'ultimo ed ancora lo faremo vi incalzeremo per costruire un'argine di difesa per i nostri territori ed ancora di più per quelli del mezzogiorno colti già in una debolezza cronica perché no perché no ad un piano di ospedali nazionali con attenzione al mezzogiorno perché no alla proroga dell'RC auto perché non passate dalla fase dell'ascolto sterile a quello dell'azione condivisa non siamo interessati a governare con voi siamo motivati a correggere i tanti errori per far trovare l'Italia le imprese le famiglie pronte alla ripresa pronte al riscatto alla voglia di ricostruire socialità ed economia non vorrei che la vostra vittoria consista nella decrescita felice per voi è la sconfitta nostra di tutti e degli italiani noi crediamo il contrario ad una crescita che sia felice e che sia robusta non ci rassegniamo e non possiamo consentirci questo atteggiamento che denota sciatteria e presunzione imprudenza ed improntitudine negligenza arroganza siete stati davvero imbarazzanti noi proviamo a contrapporre la proposta la proposta di merito sui singoli argomenti e non ci stancheremo di sostenere le nostre ragioni e quelle degli italiani delle famiglie e delle imprese sospendiamo a questo punto la discussione generale che proseguirà alle ore 16 la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.